Allora questa, quello lì in fondo è l'oceano atlantico e questa è la baia di Kukao si chiama così non è colpa mia e queste qui davanti che vedete qui, dopo farò lo zoom, sono le dune di Kukao coperte di sabbia, facciamo un poco da zoom, queste sono le dune di Kukao, proprio ora si alza il vento, un classico, ma andremo lì non vi preoccupate, è come se ci andremo e qui in fondo ci sono i faraioni, no, non posso ancora sostenere lo zoom del 13x, insomma per un pochino di tempo ce l'ho fatta, la cosa che mi piace è questa specie di laguna, qui davanti non ci passerò perché è proprietà privata, ovviamente, un classico, la strada sta lì da quella parte, da questa parte qui, e si va dritti alla playa, e perché no, vedremo, vabbè vediamo, non dico niente, non dico niente, non dico niente, e adesso una ripresa, mentre io mi abbevero visito, non dico niente, non dico niente, non dico niente, non e猿. Grazie a tutti. Va bene insomma, vi è piaciuto? Ciao! Non dico niente, non dico niente, ancora non dico niente, vediamo. Potrebbe essere ghiacciata l'acqua.